goku e krill affrontano i nemici di un tempo in dragon ball super nell'episodio in cui goku e krill affrontano nuovamente vecchi nemici si nota che questo avviene quando sono entrati nell'isola dove si trovano delle speciali erbe che il maestro muten ha ordinato a loro di trovare goku ha delle difficoltà perché è stato abbandonato da krill in quanto impaurito di dover affrontare nuovamente chi è stato capace di sconfiggerlo goku viene intrappolato da super sharon invocato da baba e solo krill può salvarlo krill riesce a vincere le sue paure e a liberare goku che successivamente si trasforma in super saian blu i due guerrieri riescono a sconfiggere gli antagonisti di una volta ed escono molte erbe del paradiso ovvero le erbe che il maestro muten stava cercando prese le piante tornano dal maestro muten alla cam house e il vecchio maestro l'informa che non ha nessuna tecnica segreta da insegnare e che il suo scopo era solo quello di farli rilassare la mente successivamente krill si fa rasare la testa e torna a combattere cominciando ad allenarsi nuovamente con goku grazie